Il GIP del Tribunale di Pescara ha convalidato questa mattina il fermo per Gionni di Pietrantonio, il 28enne, che la notte tra giovedì e venerdì scorsi ha esploso davanti ad un locale sulla riviera pescarese diversi colpi di pistola nei confronti di un addetto alla sicurezza senza colpirlo che non aveva concesso l'ingresso ad una sua amica minorenne. Nell'udienza di convalida di questa mattina di Pietrantonio, difeso dall'avvocato Roberto Serino, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Attendiamo di leggere nel dettaglio il fascicolo, ci ha riferito l'avvocato, ma per il momento nessuna dichiarazione da parte del mio assistito. Intanto proseguono le indagini della squadra mobile di Pescara, diretta da Gianluca Di Frischia. Si cerca ancora l'arma usata dal di Pietrantonio che avrebbe ferito un paio di passanti mentre si esclude il coinvolgimento di una seconda persona. Gli inquirenti ribadiscono che per ora l'unica persona indagata è di Pietrantonio.